Anno nero in Abruzzo e in particolare in provincia di Teramo per l'occupazione nel mondo delle costruzioni. Nonostante la regione abruzzese sia il cantiere più grande d'Europa dopo il terremoto dell'Aquila, il bilancio di fine anno è ancora drammaticamente negativo. Tuttavia, le recenti scosse sismiche e i considerevoli danni registrati nel Teramano dovrebbero far pensare ad una ripresa locale del settore. Già dovrebbero, ma burocrazia e lungaggini non fanno prevedere nulla di buono. Nel 2016 il settore delle costruzioni e degli edili non è stato brillante. Forse questo terremoto, brutto dirlo, ma potrebbe rappresentare un'opportunità. È così? Ma intanto partiamo sempre dal concetto che il terremoto è un'aiella drammatica perché colpisce l'identità di un territorio, lo piega dal punto di vista economico, dal punto di vista occupazionale e dal punto di vista sociale. Potrebbe diventare un'opportunità se la ricostruzione riparte e parte rapidamente, velocemente. Noi abbiamo bisogno di cambiare passo perché non è possibile fare una ricostruzione con i tempi del precedente terremoto del 2009. Solo la città di Teramo ormai conta oltre 3.000 sfollati. Insomma abbiamo bisogno che le pratiche della ricostruzione vadano rapide, partano i cantieri, si dia occupazione agli edili. Ne abbiamo tanti disoccupati. Anche quest'anno purtroppo il dato è negativo e quindi la ricostruzione può diventare l'occasione di una ripresa occupazionale nel settore. E poi un ufficio per la ricostruzione proprio a Teramo? Beh sì, credo che questo sia indispensabile. Insomma la città capoluogo di provincia è stata colpita duramente. Lo sono stati anche i comuni di Torricella e i comuni della Laga, però insomma il capoluogo è il capoluogo.